Alla presenza del comandante logistico dell'esercito, il generale di corpo d'armata Leonardo Di Marco, accompagnato dal maggior generale Arnaldo Della Sala, comandante dei trasporti e materiali dell'esercito, si è tenuta questa mattina la cerimonia di avvicendamento alla direzione del polo nazionale rifornimenti, motorizzazione, genio, artiglieria e NBC di Piacenza, dislocato nella caserma Giuliani di Strada delle Novate. Il brigadier generale Dionigi Maria Loria ha preso il posto del direttore uscente, il brigadier generale Pietro Barbera, alla direzione dell'ente del febbraio 2016 e ora destinato al polo di mantenimento pesante sud di Nola. Una risorsa d'eccellenza, così come ho detto quando sono arrivato, ne ho la conferma dopo questo periodo di direzione dell'ente e auguro a tutti quanti un in bocca al lupo e buona fortuna per ulteriori successi. Nato in provincia di Cuneo, 59 anni, Loria vanta esperienze in campo internazionale e interforze. Dal 2013 è direttore della logistica dello European Union Military Staff di Bruxelles. Sono contento di seguire a Piacenza e il polo è una realtà, come ha detto il generale Barbera, l'eccellenza del sostegno per sostenere le nostre missioni sia in patria sul territorio nazionale che all'estero. Le sue attività quali saranno? L'emettività sarà continuare sulla strada tracciata e quindi cercare di portare avanti l'informatizzazione della logistica e quindi di continuare e cercare sempre di migliorare grazie anche all'apporto del personale civile di Piacenza che rappresenta quell'operosità di cui giustamente voi andate tanto fieri. Il polo nazionale rifornimenti è stato costituito nel 2014 in seguito alla trasformazione del MACRA, il magazzino centrale ricambi auto da oltre 50 anni dislocato nel Piacentino e dopo l'acquisizione della direzione del parco materiali motorizzazione di Peschiera del Garda e del parco mezzi cingolati e corazzati di Lenta in provincia di Vercelli, è diventato l'unico polo di rifornimento per i reparti dell'esercito dislocati sia sul territorio nazionale che all'estero, provvedendo all'approvvigionamento, alla gestione e alla distribuzione di veicoli commerciali e tattici, dei ricambi, dei materiali di rafforzamento per la sorveglianza dei campi di battaglia e per la difesa da attacchi chimici e batteriologici. Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari piacentine, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma.